Meta vita Dobby, Twitch Uno è fuori, uno mio lobby Uno lobby ovvio Da forte a fuori Twitch low Planting Luca rotation Avanzi giù Bravissimo Di dietro la bomba credo Zio, eh Zoppio sta lì Lì? È lì? Sì, sulla sinistra Dov'è? Sì, sulla sinistra Dov'è? No, no, no D'altra parte, dietro Ok Sì F***** 20 secondi Non so dove si accade È qua davanti da qualche parte Però dovete andare sul defuser Su di me Morta L'ultimo è sotto sul defuser Eh Zio, che cosa faccio? Devo entrare insieme Vai Vede la botta Vai della botta Vai della botta Non lo so È bella Giulio Eh Vede È quello che ho detto che dovevo aspettare la ta Eh no, bro No, no, no Sei un mago Cosa? What? No, 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 no Cosa? What did I just do? No, no No, zio Ho sparato a caso su un muro Non hai capito? Ma che cazzo? Tutto so fatto? No, ma l'ho chiuso Va Eh Dove cazzo? Hanno rotto la cam Madonna che flick Che era Era, capitale C'è qui C'è qua No, capitale qua è morto Madonna che smirata Non è neanche così in test Madonna Ho flashato Giulio se vuoi entrare Aspetta Questo è sopra c'è un po' Sì, sì, dietro il muretto Morto a terra lo faccio io Morto Eh, però è morto il diffuso Non guarda troia Raga, questo ha rotto il cazzo prima Sotto scale Vado io a prenderlo No, vado io Dov'è? Dov'è? Era sotto queste scale qua a ovest Raga più attento Ho la rotation, ho la rotation qua Ok Però c'è uno dalla porta Bandit morto Bandit morto Bella, possiamo pushare Sì, puoi presentare, puoi presentare Bello Si copre il diffuser, dov'è? Non ci copre No raga, guardate, guardate Stavo comendo a caso Questa è una cosa E' una cosa E' una cosa E' una cosa Questa è una cosa mira 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 son dentro b raga son dentro b morto no giulio c'è un altro morto ah son morti tutti pensavo c'era un altro bello sono entrato a sparare se l'hai blackbird ma ne ho ucciso zofia perchè tu hai ucciso blackbird si ma quanto ti ha smirato quel permite io non lo vedi più bene vedi solo la testa e capisco che tu non ce la fai a mirare un puntino però capisco lui che cazzo ti aveva tutto mi sono tolto dalle cam ho visto un movimento ho smirato e si è la mano si ma per riguardi logica tu non è dovuto sparare in quella rotation non sa sai che stiamo io e te e nessuno stava peccando lo so non so perchè io abbia provato il tasto sinistro mi son girato e gli ho sperato dosso a caso è lì in salita assai? bellissimo è un injured, un injured raga uno fuori c4 c4 fuori è troppo finestra la finestra all'occhio 1 ucciso è una west main sta abbracciando il muro maverick quale? west main sicuro lo sta facendo ancora? no adesso no dov'essere anche il salito Da che parte? Dove? Pingalo! Su la porta proprio! Mato! Bravo Giulio! E' l'ultimo che capitava! Dov'è? No, Twitch Twitch Twitch! Dalla finestra! E' dentro eh! Non so dove si acciona! Vabbè i buchi di maverick volendo! Bravo! Bello si! Ma tu che problemi hai? No raga! Non funziona la roba del fuoco! E' morto! E' morto! E' morto! E' morto! La camera ha piazzato una camera! Vabbè ciao Valco ha piazzato una camera! Ok! Stanzino con wine! No ce l'ho! C'è una bombina di sopra! Lo sta! Guardate! Entro wine! Plento! Jäger è sopra! Arriverà da... O da lobby! O da... Niente! Eccolo dove arrivi! Porca troia! Ma i colpi! Ma i colpi subito! I primi scusa! Dove l'ho preso? Merda! L'ho lisciato di... L'ho lisciato di un millimetro! L'ho lisciato! Però si! Hai fatto primente sulla pietra un disegno di neve! Puoi smaccare di nuovo? Si! Però c'è qua! No! Guarda perché non è morto! E' sdraiato dietro il cassonetto su blu ragazzi! Ultimo era blu! Era blu! Esatto! Già c'è la blu! E' dietro il mirovo! Dietro il mirovo! E' dietro il mirovo! E' dietro il mirovo! E' dietro il mirovo! override! E' dietro il convinto! E' dietro il mirovo! E' dietro 두 다들! e dopo dopo l'altra Scala, Scala Marta, Marta Sofia Marta un'altra, non so che fosse Marta un'altra Marta Pulse C'è uno sopra Doctore, MinSills MinSills Doctore, MinSills, MinSills Non è lì Ok, ok Siamo sputtati Non ho avuto Doctore Doctore Un'altra 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 Della schiavania Aiuto Vai 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 Della schiavania Vai Cosa? Si è curato Si è curato A pochissima vita Vai Va È malattato Mira è su B Non potrebbe essere entrato nel C La prima La prima Si Fate il giro Fate il giro dal Mirawall C'è uno in fondo Fuori due di A E l'altra è in B Dov'è? 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 Dietro il divano Dietro il divano Dietro il divano In B Vai vai Planta 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 Vai B B Da Mira Mira vuole aperto Mira vuole aperto Raga Mi stai piegando Dosso? Ace Piazza